Il titolo che ha, portato a casa, questo è un'importante per me, sono contento di averlo portato a casa e di vincere questo ottavo titolo. È stato un weekend difficile, ma ce l'abbiamo fatto. Sì, è stato veramente difficile, con questo problema che ho avuto ieri, speriamo che non sia niente di grave, ma con una vista con tutti questi salti lunghi è stato veramente difficile essere concentrati, avendo poca visibilità all'occhio sinistro. Speriamo che non sia niente di grave, ma che sia soltanto un po' di terra che ha creato un po' di infiammazione. Questo è il titolo dedicato sicuramente alla mia famiglia, a mio papà, che non c'è più, speriamo ce ne siano ancora tanti, ma sono sicuro che lui apprezzerà sicuramente l'assunzione. Diciamoci un po' cosa da dire, io penso sempre al presente, speriamo di continuare a fare i risultati ottimi ogni volta. Il prossimo step è la motocrossa delle Nazioni, adesso c'è la cara del Messico, però il nostro obiettivo è trovare la motocrossa delle Nazioni per l'Italia.